Come abbiamo cominciato a cercare mascherine per le nostre aziende e per gli operatori sanitari un po' in tutto il mondo, soprattutto in Cina, e abbiamo sempre più trovato difficoltà nel reperirle. Vista questa complessità abbiamo cominciato a valutare l'idea di creare una filiera tutta bergamasca a chilometri zero. È nato così il progetto mascherina Mola Mia. Con l'aiuto del Politecnico abbiamo poi fatto tutti i test e abbiamo portato avanti un paio di materiali. Di questi uno è stato riconosciuto idoneo, ha superato tutti i test e in questo momento grazie alla filiera Santini, Plastic e Radici stiamo portando avanti tutta la certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie. 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 Grazie.